Posso spiegare Scusate ho fatto una stupidaggine Ho terminato la diretta non volevo Un attimo Ok eccomi qua Eh no 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 niente dog Niente dog Niente dog Un attimo Un attimo Un attimo Quanto è Nostalgica proprio sta cosa Dopo controllo del tuo inventario quando esci scopri una cosa sul lancer Loro che entrano così nel mio inventario andandomi a tosto sono bellissimi cazzo Na 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 Beh Dannazione Penso che dobbiamo fare il nostro progetto Eh Eh la fine abbiamo lancer giusto Eh lancer Dove sei Dannazione Penso Quindi dobbiamo farlo La biblioteca Eh beh va bene Uh Livello 1 Dollari 2 HP 20 Qui Questa tra virgolette Dal capitolo 1 Halloween Pencil Scenda Money 2 Questo sarebbe il tizio Questo sarebbe il tizio Vabbè lancer si sapeva che era il jack Perché il jack Più o meno è il fence È il fancy Vabbè è il fante Eh Fa strano Vabbè sono giocattoli ci sta Pensavo l'asso No Eh Il re ha lo scettro Che sarebbe quello cosa della pancia La regina Ha una Corona E Eh Il jack ha una lancia Se vedi bene Che stai facendo tu? Andine! Ah si Andine! Quando Dobby dice Devi andare di forza Qua sta l'ospedale Ah ok Ok siamo qui Dannazione Maledetto progetto Libri Dio Dannazione Ho detto una bestemmia Sì scusate Ehi Chris Dove sono tutti Sembra che Qualcosa non ci sia Non vada Ah fanculo Space pinball Oh no Oddio questo è per chi ha avuto Windows XP Questo per chi ha avuto Macchio computer Per chi è cresciuto con Windows XP C'era la demo Di Space Cadet Che era Un pinball Digitale Del quale io per esempio Ci ho passato La vita Quel gioco Troppo divertente Fare punteggi Era I punteggi altissimi Che bello Ma che figata L'hanno messo qua dentro Eh? Ma penso un po' tutti dai E' come E' come dentro Quell'armadietto Pensi che Un altro Mondo scuro Beh Penso che non potremo iniziare Il nostro progetto Fino a quando Sai Chris Ci sono Delle fontane oscure Qui Le devi Le puoi chiudere E tornerà nel Laboratorio di computer Giusto? Let's go Eh ma non c'era Sei con noi Adesso praticamente Parte quella host Bellissima Che ti ho mandato io Questo è nuovo? Era il 6 I fili I fili Oh cazzo Eh vaffaculo Arriva 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 Ma come fa a viaggiare Da mondo In mondo Qualcuno mi aiuti Qualcuno per favore Noel Susi Fico Siete qui Aspetta Andate via Prima che sia Troppo tardi Noel Eccola E' la regina Lei Chi sei tu? Non so perché Se sti atteggiando In quel modo Mi ricorda un po' Richard che fai Die monster You don't belong in this world Sono Io letteralmente E' metadon Io sono conosciuto Come un serial number Ah beh Ma tu Piccoli Insolenti Bambini Mi potreste chiamare La regina Eh si Ti chiameremo Regina Regina Guarda Regina Non siamo Bambini Ah si Gli adolescenti Sono ancora Dei piccoli Bambini Piccoli Grassi Grandi Bambini E adulti Sono Ancora Altri Bambini Non ti fa Sembrare una bambina Anche a tu Anche a te quindi No Io sono un computer Intelligente Con sopra Scritto Nice E bellissima Computer Grazie Grazie I stimoli Ma devo andare Adesso Goodbye Aspetta Aspetta Perché hai catturato Noelle Ma Willim Peon Nella mia Quest Della Oh no Pedina Ok La farò Nella farò diventare un robot Anche a lei Perché Perché divertente Si Fanculo Amico Nessuno Cambiare la faccia Groundroal Mest Mh 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 Eh Eh Vuoi combattere Perdente Sì Sì Dì già Sì Oh Beh Addio Dì Sì Grazie a tutti. Ma come premio Y per... Uh, bellissimo. Mi ha letto il controller comunque. Se stai da PC è C. No, ma basta che lo rimuovo il controller alla fine. Basta che faccio questo. Il controller è spento. Mi ha letto il controller, non so il perché. Il controller è spento. Ah, pure Susy adesso può risparmiare? Andiamo a prendere la regina. Altre. Oh no. Tutti potevano fare spare già dal primo capitolo. Non mi ricordo questa cosa che pure Susy poteva risparmiare. Ho usato Passify? Oh no. Mi ha mandato in modalità sleep? Oh no. Sarebbe sospendi da noi. Passi, sei qui? Ma come hai fatto? Ho sentito una presenza oscura e mi sono preoccupato. Sembra che una nuova fontana oscura sia stata aperta. Hanno preso Noelle. Dannazione. Lei pensava di andare nel mondo oscuro. Se non facciamo qualcosa lei... Non c'è da preoccuparsi. Dobbiamo solo rinchiudere la fontana. Sì, sì. Non mi fa male fare un'altra puntura, ok? Andiamo. Bellissimo. Bellissimo. Soprissi pure in posa. Non possono fare Passify. Ma questo è... DJ Max? E' DJ Max sta roba. Fichissima. Bellissimo. Ma io questo... Ma è bellissimo. Come sto ammesso di salute? Vabbè no, siamo messi bene. Oh, ho visto pure un'altra cosa. Attenzione. No, niente di... Cyber World. Questa qua è quella che stavo ascoltando prima. Queen rules. Queen rules. Mh... Mh, 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 mh. ma bellissimo ma pure questa tana la sony che bellissimo hai aperto club west asper ma io nell'inventario c'ho lancer e quell'altro giusto ce l'ho ancora ma perché c'ho lancer che sta bellissimo ma è bellissimo veramente questa cosa c'è lancer mi ricordo una vecchia applicazione che usavo io ha toccato susi la lux se la filata vabbè se che la lux se la filasse me l'aspettavo in no uno solo preso potrei poter usare passi fai tre su sei reclutati ho visto bene hai vinto vabbè che era lux se l'era filata ok oh no bellissimo ah no che us oh no bello il fatto che vada pure a tempo il gli attacchi vanno a tempo manuale cyberpedia che sarebbe a wikipedia da adesso in poi allora da adesso in poi sconfiggere i nemici con la violenza li farà perdere nemici persi non possono diventare reclude di nuovo ma tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant bastarda luci non ho viste molte quindi praticamente se io ne recluto se io se io ne ammazzo uno dei mostri non ho la possibilità più di regola di reclutarli perché obbiettivo non sono cattici bernetici è perché io vedo due su cinque prima le dobbiamo ridurre più dalle 6 quindi non so se poi non posso fare anche il combattimento anche se non l'avrei fatto penso che tu ce la faresti poi ce la puoi fare a fare questo puzzle posso dire che era la cosa più semplice del mondo non volevo andare avanti ah non lo sapevo io questa però penso che c'è noel non ti preoccupare non ti faremo robotizzare questo è quello che loro vorrebbero farmi forse non lo sapevi non lo sapevo che tu lo sapessi oh dear that was supposed to be a surprise oh well aspetta it's quite troubling I peon must be willing to assess me in word of nation me la immagino che parla come gladus lei scusa you guys hey do you like doing anything right now we no no che dovremmo che dobbiamo fare un arcade game vi umiliero in una semplice in modo semplice diciamo così che no vabbè si aspetta ok ho dimenticato che tu eri un nerd ok si ok la dovremo battere ad un videogioco però sono chris aspetta ho un'idea possiamo combinare i nostri poteri quindi guarda ah hai parato questo da lancer con scommetto no 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 you Ok Ok punch out Momento punch out Aia Ah ok posso E' difficile capirlo Perché prima l'ho colpito Non è andato Ok Battuta Amusing Ok Adoro il suo tema Oppure Understand Representing set to perish Ma no No vabbè mi sta piacendo troppo Sta stronzata Perché sta è una stronzata bellissima C'è biscottino Oppure Ciro Che mi aveva detto Sta strossa Sta cosa Aveva detto No Piper scarf Però non ha abilità Mentre questa qua Che c'ho attualmente La fine sap Sembra Allora Ah ok Si chiama Numbers Lui Ah Salve Il gioco è andato distrutto Sei pieno di potere Della Della violenza Dei videogiochi Adoro 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 Io Perché Quattrocento L'uno Andiamo Amico Non puoi sopravvivere Ok Vabbè facciamo così Proviamo a fare Questa cosa qui Ed è un oggetto Ok Ok Fa musica Ad ogni Però Quattrocento Mamma mia La musica elettronica Bellissima Tu? Sono l'hacker Ok Trovami Ah ok Questa è opzionale Praticamente Andiamo a trovare Dei blueprint Ok Ho capito Questo Ah ok Ok Ho capito Tec erix Ah Sono virus Praticamente Loro No Stupendo Stupendo Ma fa Agri Tool Quindi Ah Ehi No Aspetta Sì Non ce l'avevo Pezzato Prima Eh E' Fa Culo Sta Puttana Ah Non c'era Nient'altro Da fare Qua Tantanana Dobbiamo fare Sei No Aspetta Aspetta Torniamo Un attimo Solo indietro Possiamo tornare Indietro Ma è bellissima Comunque Questa stronzata Sono bellissime Le cose Che Bello il tesoro Cos'ho ottenuto Ma Ma come Che trollata Brutta E di qua Un'altra strada Oh Wait Oddio E come La faccio La L Fermi Fermi Vedamir Vedamir È Momento Brainstorm Sì Perché Non ho una B Qui vicino Ho sbagliato No Ho sbagliato Mi serve Un'altra F E una B No Ma non c'è nessuna Ah no La B sta fuori Aspetta G A S G A S S Allora Quella è una R No Mamma mia Ho sbloccato Qualcosa È difficile Il puzzle È stato È difficile Mo È semplicemente Bastava ragionare Un po' Non è che c'è qualcosa Non è che c'è qualcosa Ah sono i blueprints Ah ok E Me lo dà in automatico Spero Ah ok 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 Ah ya Quel via azzurro Ah ok Dead end All right No Io non me lo sto leggendo Sia chiaro Non sto traducendo Perché poi ho problemi Non riesco bene Non sono bravo Ad adattare Cioè l'inglese Lo capisco Ma non riesco a capire Come devo adattare In italiano Non so il perché Ah 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 Va bene anche se non Dopo Infatti non sto doppiando più Mi ha fatto la faccina Con la KK Ah ma si Di play Ma porca puttana Aspetta Se ne stanno andando Solo uno stereo Un altro stereo E un CD player Let's fight Ma veramente dobbiamo combattere Non è bellissimo Non è bellissimo Not dancing Ma è bellissimo Ripeto Aia L'unica cosa Devo curare Chris Aia Aspetta Aspetta Proviamo a fare una cosa Balla solo tu Eh no Devo curare Chris In un modo Balla e basta Eh ma Mi stanno a morire Al 6 Che Chris Quanto sta durando Sto attacco Eh devo curare tutti Ok No Mi devo caricare Le tp Non ci devo provare Proprio Ok E niente Non ci prova Quante mazzate Devo prendere Ok Sì Sì Certo Oh Balla Gli ultimi due scapiti Il primo smette sempre Ma è bellissimo È divertente sta cosa Così Ma è bellissimo Ah Bellissimo È qualcosa Bello che c'hanno No Ognuno Deve guardare Icone Sono stupendi Hai sbloccato il loro shop Ah Fantastico Stupendi 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 Però mi attaccano Dico Dello stesso Ah no Ok Ma sono bellissimi Ma no È troppo divertente Questo è divertente Ah Ci siamo passati prima Sì Vabbè Ci Curiamo Naga Saber ok no a pocket times the items no questo abbiamo preso io devo fare una parola sull'ordine ma sono bellissimi ok per il momento possiamo uscire stupendo salvare non devo salvare ok anche quando si può andare o merda piano troppo divertente tension beat no c'è un floppy un attimo e voglio prendere floppy no non può pensavo che fosse qualcosa sto floppy mannaggia pensavo che se toccasse susy merda 3 tanto 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 tutto tanto 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 e piano per quanto poco non mi stavo per colpire mi stavo per far colpire no e direi fare crisi che difende difendi pure tu fasi fai il la tratta un tante un tante un tante un tante un tante un ok lancia passi vai non cade tua figo colpisci qua ho sbloccato la zona ma non sono capito quale spero ci sono riuscito non ho capito cosa sblocato qui che c'è vabbè ma è stupendo comunque ok ho sbloccato le tasse 67 e si può tornare più dietro ok ok no ma è stupendo ripeto che cazzo sono ste cose il gioco ah no ok fosse il gioco dei cavalli no 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 Che plot twist, un odioso Lo posso mandare a fanculo? Dimmi che gli faccio il culo, per favore Eh Sì Smartopia Sì, sì, sì Io lo odio, stituzio, già mi sta sul cazzo Io e Noelle Light Nerds Power, oh beh Oh beh You mean Light Nerds? No? Light Nerds Ah, quindi lo sai che è stato l'uso Proprietà per te Ah, va bene Stupendo Stupendo Ah, ovviamente lui fa vedere che è studioso Che ci butta le A Va bene Allora Bumpiamo con Susi e Chris Perché RAL6 ci deve curare Sì, sì E' bella la sua musica Che vero, veramente Uh 84 Devo resistere a quest'ultimo bump Ehm... 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 Eh, ciao. Oddo. Ehm... adesso o no anche troppe volte ma no quanto dura il capitolo 2 quanto può durare il capitolo 2 tanto questo l'ho capito il capitolo 2 Eh? Che sta facendo? Che cosa ha fatto? Sì, la guarita. Sarebbe bello avere un guaritore in più. Eh... In realtà non mi piace come si sta comportando. Dark Candy. Mi fa schifo. Come siamo messi? Malissimo, attenzione. Siamo messi uno schifo. Oh boy, oh boy, I'm fresh. Il cestino? Eh, sì. Praticamente è il cestino. A me non dà... non ha dato strano. Molte mi ha dato il più Chris. Sarebbe vantaggioso se ci splittiamo. Non lo so. Allora, fino a mo' è quella più umana come personaggio. Ma letteralmente è quella più umana. Io mi dispiace per l'al 6, però sto giro vado con Susie. Ok. No, vabbè, non mi sarebbe dispiaciuto. Però ripeto, è che... Non mi sarebbe dispiaciuto. È diventato Frogger. Oh, è come a Napoli. Guarda. È come a Napoli. Ah, 20 dollari, ok. Non posso scappare. Non posso scappare. Ho visto Noel comunque. Bello. Ciao Noel. Che ci fai? Sì, abbiamo proprio premuto Escape. Che meme è sta scena? Ciao Noel. avrò duro sta cosa sai qual è la cosa bella sai qual è la cosa bella e che in tutto questo io ho capito pure la sua di battuta pieno di battute di merda però va bene a no 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 non si non lo posso dire ok praticamente perdono di quei rompi palle che no ok è un idiota ok questo l'avevo capito che quello era un idiota vabbè noel 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 poi giornale nel parti noel è un altro mago ma più si avvicina al mago bianco ho sbagliato ora ho paura di proviamo no 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 ok aspetta posso 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 riuscire a farlo no ok no ottimo ma ha paura dei topi lei non mi legge cioè lei si è trovata lì così e mi sta pure imitando oh boy dragon blazers oh no in realtà questa è una citazione da dragon quest va bene nooo nooo e lui si ferma il gioco aspetta ti spieghiamo come funziona sta truzzata è stupendo stupendo No, mi ha spottato, spero, ha spottato. Pink Ribbon. Succo. Sì, certo, ha le add. No, aspetta, qua si va avanti? Ah, ok. Ma che carina Noelle, però, devo dire. Non possiamo attraversare, aspetta un attimo. Non ancora. Non ho ben capito se Noelle mi prende... Scusciamo? No. Ok. Andiamo avanti. Ah, sì. Festival. Ok. Ok, no, per provare, per passare. Ah, ok. Si disattiva. E' assoluto, però, voglio vedere anche di là. Cosa c'è. Comunque è molto bello, perché è tutto a tema videogiochi arcade, queste cose qui. Ma... Ma la porta è un floppy! Cioè, questa è una microSD, la porta qui è un floppy, bellissimo! Uh-huh. Siamo solo amici Siamo letteralmente in una biblioteca con tanti computer Con Noelle voglio dire che siamo solo amici Sì, ok, lo avevo capito che siamo in una biblioteca con tanti computer Però è divertente sta cosa Sì, ok Io vi giuro, io sto leggendo queste scene E sto ridendo perché è maledettamente divertente Tutto quello che c'è qua dentro Ten Park Non sono scompiute Allora, mi sto facendo un po' le risate, è bellissimo Is that bad? Non so che Si risponde da sola Ma ti giuro, ma la cosa che mi piace Di più è proprio la musica La musica di questo gioco è bellissima Un'altra arcade Ma c'ha scritto il Q sulle mutande Ci fa sognare Ci fa sognare meno con sta cafonata Amo tollerarti È un'idiotta 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 no ma lo sto proprio amando è troppo divertente veramente troppo divertente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ma se vuoi usare lancer puoi parlare su questa cosa vabbè dalle sue opinioni su quello che succede però è bellissimo i i i i i i i i mapp mi piace un sacco che a noi sia vestita da mago bianco perché il mago bianco mi ricorda un sacco il mago bianco di final fantasy ma con bianco in quanto si usa solo sono magie difensive allora sì c'era di questo che a questo punto difenda difenda maga neve e ghiaccio sì avevo capito su questa cosa snow ring snow caster eccolo qua vuoi vedere che moto b fox verso capitoli 7 8 cioè questa è una cosa che ricorda un sacco earthbound sia chiaro però mio vedere che verso i capitoli già 5 vedremo le limit break avevo visto qualcosa qui usa 1 andiamo 1 è un'altra volta quello con oh cazzo fermo allora i doppi escono da qua colpiscono qua girano sto cercando di far capire dove devono andare i topi allora girano di qua praticamente vanno sulla destra questi non devono minimamente schiorarli dovrebbero andare così no a fermo così ah ok devo andare vicino a uno di quei costi per me reggio è un'altra volta Sto cercando di capire come deve funzionare questo puzzle. Ok. No, è, è. Sono un genio. ecco poverina però mi dispiace i am going to touch the cheese ma no fuck preso nananana 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 e vabbè ma non l'ho fatto apposta uno preso no pure la freccia no nananana 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 fammi lo sper tu ciao serpentone nananana 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 più o meno sono piuttosto impegnato solo con gli esami questa settimana infatti dopo stasera non si faranno live quindi recupero sia la live di ieri che non l'ho fatta perché stavo cioè ho passato la giornata in un altro modo in modo che mi piace ancora non proprio non proprio ai come mai sei male un posto ok ok no sì stava per cadere faffanculo perditi che mi stava un attimo solo no no stai zitto mamma mia non riesco a no 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 basta eeeh fermo ma qua ok ok cosa come hai fatto eh fatti i cazzi due eh fatti i cazzi due sì 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 mamma mia che idiota io lo posso dire che è un idiota questo mi distraeva mi ha distratto per due volte comunque serpentone come mai stai male che cosa è successo mi ha distratto mi ha distratto quell'idiota è caduto due noel due volte non 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 commento Era un Mimic Che bastardi Uh Eh vabbè ma Quello non sapevo come funzionava Lo devo dire Praticamente è un Ralsei Più potente Noel Letteralmente Uh oh Che non dico qui per evitare gli spoiler Vabbè me lo dici dopo la live Ovviamente Madonna quanto lo voglio picchiare A sto stronzo E' bello che tu hai nominato gli spoiler Ovviamente il bot subito Ma è un idiota Quello è smart Eh vabbè Sì vabbè Già mi sta sui coglioni lui eh Almeno che non entra in parti E' già da quel che vedo luce C'ha le magie del vento Facciamo i coglioni Mentre Cioè fa il simp questo Ok Ahia No Noel è down Noel è Scusate E' il cazzo Quanti attacchi mi fa adesso No non dovevo farla così con Noel E' la prima volta che muoio E' la primissima volta che muoio Eh scusate Però non me lo potevo aspettare E' un po' stronzo lui Ah ok Facciamo i coglioni A Noel la facciamo parlare tranquillamente a sto punto Perché dobbiamo caricare i tpi Sì sì Ok Quindi no Facciamo i coglioni Ma me la ammazzano E' un altro poco Na 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 Allora Allora Ok Devo usare La magia di Noel Vai Na 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 Ma io non posso parlare Non lo sopporto sto attacco Va bene Mamma mia Sta diventando difficilissimo Quanto manca ancora Quanto manca ancora Un attimo su una cosa Un attimo su una cosa Un attimo su una cosa Sì 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 Ti uccido E' stata di cazzo Madonna non lo sopporto Lo giuro Giuro che non lo sopporto più Ed è quasi luna comunque Io tra poco Penso che sta Chiamo Che cazzo E c'è il logo Della xbox Quel coso Va bene E' il logo Della xbox Comunque la torta Da na 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 Da na 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 No Sul serio No Perché dovrei prendere la banana Oh cazzo Questa là Questa là Questa là Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Non l'ha capito Che era quel piccoletto Che mi hai fatto vedere ieri Ah comunque Stanno cominciato a fare male Le dita Con la tastiera E ne E ne Che mi hai fatto ma è bellissimo no devo curare un attimo sono tentato dal premere f1 per davvero ho premuto f1 è stupenda sta cosa è vernic block andiamo troppo divertente no è bellissima sta cosa ok pensavo di fare una cosa buona invece no toby allora io e te abbiamo un problema perché mi devi fare persone di pelone no 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 great enemies prescribe now stupendo ah ho perso dei soldi però carino lo devo dire questo è carino carino veramente ok altre banane da prendere non lo so è piccolo bambino diventa caramelline no 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 bellissimo ma 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 prima un giallare ora un giallare ora un vendito è abusivo in effetti se n'è andata così andiamo andiamo ok piano piano in che senso allora ma è ciò che vorrebbe che hanno fatto in earthbound praticamente la parola che si forma è un dicembre mi viene da pensare che a dicembre esce il capitolo nuovo è fatta apposta sta cosa per volerci dire quando esce il capitolo nuovo ma allo stesso tempo no perché abbiamo fatto dicembre letteralmente questo anno è possibile è possibile lo devo dire è un tocco di classe un occhio attento non ce l'hanno non lo riconoscerebbe comunque siamo a tre ore di live tra poco stacchiamo prossimo salvataggio si stacca e Sì, loro due nel frattempo si stavano divertendo Sì, loro due nel frattempo si stavano divertendo Preferisco la ship, Noelle Eh, andiamo Mh-hm, ok Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sì, sì, pure io vedo questa ship in un sol perché Esatto Sì, 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 sì Ma io non lo voglio lui in team E posso vedere? Allora adesso mi viene a vedere Ah no, ok Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di modificare il team Ehm, dove è finito quell'idiota? Comunque Questo lo continuiamo settimana prossima Confesso che un po' mi dispiace Cioè, però è già l'1 e 5 Ehm, vorrei andare anche a dormire Per il resto Gioco bellissimo Veramente mi sta piacendo Sto schiattando dalle risate Ed è Stupenda per me sta cosa Nel frattempo Ci troviamo Vediamo un po' chi c'è online E andiamo a fare un po' di raidini Allora, vediamo un po' chi c'è online stasera C'è Manana C'è Manana Quindi andiamo da lui Che è da un po' che non lo raidiamo Allora, ragazzuoli Io Avvio il raid Vi dico solo una cosa Restate ancora un po' Perché così potete formare i punti Così potete fare cose bellissime E Io vi dico Che qui ci sono tutti i miei social Instagram è il social dove sono più attivo In cui posterò in questi giorni Alcune cose bellissime Grazie al Il regalino che mi ha fatto Morphos Ieri E Ci vediamo da Manana Quindi vi lascio Con questa musica bellissima Di Deltarune Ci vediamo settimana prossima In cui Finalmente Ci sarà qualcosa di Tanto nuovo E tanto diverso Io vi saluto Vi do il ciao 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 Grazie a tutti.